si vai così vai così non rimane là davanti a portacolpi a 2 all'ora o li porti o non li porti e poi te ne vai però su non è un sacco eh bravo reagisci subito sciogliti sciogliti allunga se andiamo indietro non hai messo manco un colpo eh parti dai si dai ancora su vado diretti via rientra su con le mani esci da là che se corre dietro dai dai al quadrato vai vai allunga il braccio allunga il diretto tranquillo cose semplici così pulito rientra però dai questo diretto dai 1 2 su adesso 2 mai sì e via non sprecare colpi non sprecare colpi sciolto esce dalla gambe 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 sopra e sotto dai sperimenti stai eh vai daniele tira su quelle mani vai e tira sul sinistro 1 2 dai così esci dalla esci trova il modo di uscire appena parte si rientra però bravo ancora 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 lascialo qui lascialo qui ok dai stai lì stai bello chiuso non sei solito forza 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 tira sulle mani e vattene passa a ste gambe scendi su ste gambe non ti alzare quando porti i colpi dai 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 forza piano nico dai su quelle mani usa il jab dai toccalo senza affondare via però tira sul destro eh non è che hai visto non è che sta a dormire lui eh è solo un po' sanco su quelle mani rimane lì davanti o li porti o non li porti con un colpo singolo non puoi mettere 3 secondi di portare a colpi eh via non camminare senza colpi ancora dai 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 su su porti sempre prima lui lavora lavora non camminare senza colpi costruisci direzione col braccio avanti col gel dai gestisci gestisci su quelle mani cerca di gestire lavora lavora gestendo nico vieni qua vieni su quelle mani su quelle mani no dai lontano no dai lontano gestisci nico stop allunga ste gembe veloce non essere indeciso su quelle mani non dormire non lo fa bene fuori su ma prende da un po che ragiona con calma e spira sei calmo semplice allunga sto gembe sopra e sotto dai sopra e sotto mai col diretto t'ho detto si parola avrà sto gembe dai nei porta 100 e di vista anche a forza di portarlo su e poi metti in testo ancora 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 questo gembe dai non dormire veloce veloce anche sotto è lungo entri sotto dai bravo dai va bene rientra su quelle mani esci da lì esci da qui su quelle mani sopra e sotto ancora dai continua le azioni buone dai ma ora mi ha fatto a po è 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 un progetto Lavora con il jab, trova la distanza. Manca minuti, eh. Dai, Daniele. Bravo, sei sacco ma devi gestire. Dai, hai fatto il passato avanti? Ti prosegui, no? Un fermato. Vieni in avanti, ti conviene girare. Schiva laterale. Dai, eh! Tagli a destra. Esci da lì. Oh, eh, lo vedi? Bravissimo. Scappa. Dai. Rimani al centro lì. Dai uno due, prova. Dai uno due. Ancora. Sì. E via poi, non rimani là davanti. Cerca sempre di uscire fuori col busto. Fallo quel giochetto col busto, dentro e fuori. All'inizio. Rientra subito lì. Mi hai composto. Tempo. Mettiti al centro lì. All'ultimo round. Roba tu al centro lì, eh. E lavora con quel jab. Lavora. Non ti far trovare fermo. Su le mani. Non ti ha fatti alla foca. Dentro e fuori. Busto, dentro e fuori. Dentro. Non ti far sorprendere, è così. Quella è una distanza a lui ci arriva, eh. Ci arrivi pure te, però. Allunga sto jab. Su. Costruisci l'azione, anico. Non ti fermare. Sti tre minuti li fa tutti di enfiato, va. Subito, Daniele. Dai, sopra e sotto, su. Parti da lontano, Daniele. Parti da lontano, qui. Esci dalla rientra, però. Hai perso un'occasione. Dai, cupo. Vai, 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 vai. Oh, dai. Sul sinistro te sta bene questo. Dai, 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 dai. Dai, lavora di più unico, su. Va bene, su con le mani. E rientra subito. Grazie al centro lì. Mandalo indietro a te, prova a mandalo indietro a te adesso, dai. Su le mani. Su, dai, mandalo indietro, su. Voglio regala accolci, eh. Uno, due, dai. Uno, due, dai. Uno, due, incrocia l'ottosinistro. Uno, due. No, la testa avanti così, Daniele. No, la testa avanti così. Incrocia a sinistro. Sgatti le mani prima che te la testa. Dai, dai, Daniele. Esci da qua. A destra, a destra. Ancora? Dai che va bene di qui. Parti tu, parti tu, parti tu. Parti tu, parti tu. Parti tu, parte tu. Parti tu, parte lui, ecco sì. Uno, due, dai, adesso. Sì. Non camminare senza colpi, Daniele. Sopra e sotto. Con il sinistro puoi anche provare andare sul fianco. Capito? Non camminare senza colpi. Eh, vedi che non è di... Ecco. Allora. Su le mani, su le mani. Ancora. Un composto. Scopriti. Va bene. C'è preso solo un colpo. Non c'è preso solo un colpo, eh. Dai, dai, dai. Ma Daniele, forza un po'. Non è finita. Manca un minuto. Dai, 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 dai. Sto minuto deve essere il tuo unico. Guardalo e tira su le mani. Incrocia sti colpi, dai. Non ti puoi ritirare. Ok, non stregare, basta. Senza colpi. Dai, Daniele. Tuoi sinistri vai, tuoi sinistri vai, tuoi sinistri vai. Tuoi sinistri vai, tuoi sinistri vai, dai. Dai, Daniele. Composto, composto. Non ti alzare. Dai, Daniele. Vado. Sul sinistro, Daniele. Dicci tu. 30 secondi. Dai, Daniele. Dicci tu, Daniele. Ma tu stai, Silvano, non stasera. Ma, ancora. Vai, vai. Prec. Quindici secondi. Dai. Oh, forza. Dai, 10 secondi tu hai. Tutto devi dare. Tutto. Dai, Daniele. Tutto. Dai, Daniele. Dai, tutti 10. Dai, Daniele. Forza, Daniele. Forza, Daniele. Forza, Daniele. Forza, Daniele. Cinque secondi. Adesso, ventate. Su, 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 le mani. Se lo portavi diretto, magari lo schieravi. Stop. Grazie, grazie. Eh, famo un'altra. Figuramente. Sicuramente è una bella esperienza. Prima volta per me, uno sparring, soprattutto con atleta esterno. Faticoso. Purtroppo col fiato io non è che vado d'accordo. Però sì, sicuramente è una bella esperienza che mi piacerebbe ripetersi. Com'è andato lo sparring? Bene, prima esperienza fuori. Quindi, fiato, soprattutto, è stata la parte di sofferenza. E, però, bene. La sensazione com'era? La sensazione, pensavo di, non so, col fatto che è stata subito vai su, l'ansia non l'ho sentita. Forse, se avessi fatto un po' più, non so, ai quanti con te, qualcosa di preparazione, sarebbe stato peggio. Invece, tipo, vai. Però, no, bello, bravo. Mi piace tutto.